Ha avuto un successo straordinario, ben oltre le più rose e aspettative, la marcia non competitiva proposta a Lodi dall'Alor. L'associazione di ossigenoterapia riabilitativa, grazie all'apporto del gruppo Marciatori Lodigiani del gruppo sportivo San Bernardo, è riuscita a coinvolgere oltre mille appassionati di podismo. In una bella giornata di primavera si sono misurati su due percorsi impegnativi ricavati in parte in città ed in parte in periferia. Al termine premia i gruppi più numerosi. Grazie alla vostra partecipazione saremo in grado di offrire dei percorsi riabilitativi a quanti hanno difficoltà respiratorie, ha dichiarato Francesco Tursi, presidente dell'Alor, al termine della gara non competitiva. Il presidente del gruppo San Bernardo, Silvio Furiosa, invece ha annunciato che il prossimo anno le prove sui 10 e 21 chilometri avranno carattere competitivo. Soddisfatto anche il sindaco della città, Simone Ugetti, che ha assicurato la sua partecipazione alla seconda edizione della marcia Alor. Per la cronaca i premi messi in paglio dagli organizzatori per i gruppi più numerosi sono andati nell'ordine alla Casalese, che ha messo in campo ben 59 podisti, al gruppo sportivo Ottavazzano con 37 podisti e ai gruppi di Tresano di Brembio, terzi con 35 atleti in glara, alle rappresentative di Valera Frate di Zivido San Giacomo, quarti e dal gruppo sportivo di Sant'Angelo Lodigiano, quinto con 24 podisti al via.